Amici di Football is My Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi sono qua per commentare un po' la partita Bulgaria-Italia 0-2 per la qualificazione mondiale 2022 in Qatar. Allora, cosa dire di questa partita? Bene per la vittoria, 6 punti in testa al girone, però insomma una prestazione, ecco, una prestazione, direi che lo capite anche voi, una partita bruttina e noiosetta, giocata a ritmi veramente bassi. Un primo tempo in cui ho visto un'Italia imprecisa nel palleggio con diversi errori in fase di costruzione, lenta nella manovra che però comunque è riuscita a passare in vantaggio a fine del primo tempo con un rigore trasformato in modo deciso e potente dal gallo Belotti. Quindi rigore che tra l'altro, diciamoci la verità, è un rigorello, si poteva anche non dare. Secondo tempo più o meno la solita assolfa, poi però a circa 10 minuti dalla fine Locatelli segna il gol del 2-0 e nel finale gli azzurri giocano con un po' più di scioltezza, scioltezza sì, gestiscono il risultato e portano a casa questa vittoria. Bene per la vittoria sì, però ripeto, io questa Italia, come dico sempre, la aspetto a test più provanti contro squadre più toste e difficili da affrontare. Già la partita contro la Svizzera sarà un bel banco di prova per l'Italia, Svizzera che dopo di noi è sicuramente la squadra più forte del girone, ma dentro degli elementi di tutto rispetto, penso per esempio a Shaka, a Shakiri, ad Embolo, quindi insomma non è proprio l'ultima delle arrivate e che poi ha in panchina un allenatore serio, quadrato e preparato come Vladimir Petkovic. Andando poi un po' a vedere le pagelle dei giocatori, ho dato Donnarumma 6, nulla da segnalare, Florenzi 6, partita sufficiente, meno sprintosa e pimpante della gara contro l'Irlanda del Nord, però comunque non ha fatto danni clamorosi. 6 anche per la coppia centrale Bonucci a Cerbi, Spinazzola 7, 7, 7, miglior in campo degli azzurri, una prestazione veramente grandiosa da parte di Spinazzola che ieri sembrava Dani Alves, ieri Spinazzola sembrava Dani Alves, ieri Spinazzola sembrava Dani Alves, bene in fase di copertura, benissimo in fase di spinta, corre, spinge come uno stantuffo e disegna calcio in fase offensiva. È il nostro regista d'attacco, una prestazione veramente a 360 gradi, a tutto tondo, lo dico da tempo, lo dico da tempo e vi invito anche a voi a scriverlo qua sotto nei commenti, Spinazzola è il miglior terzino italiano per distacco, Spinazzola è il miglior terzino italiano per distacco, Spinazzola è il miglior terzino italiano con distacco. Grandissima partita di Spinazzola, non mi è piaciuto il centrocampo che l'ho visto in preciso, tanti errori in fase di costruzione, Barella 5,5, meno sprintoso ed animoso del solito, 5,5 anche a Stefano Sensi, torna a giocare dopo diverso tempo però il regista non è il suo ruolo, sbaglia diversi palloni, l'ho visto così un po' fuori fase, Verratti 6, sicuramente il migliore del centrocampo, Chiesa 5,5, una partita un po' così, un po' eterea e spesso andava a sbattere contro i difensori della Bulgaria. Il Gallo Belotti 6,5, bene per il gol su rigore, nel secondo tempo prende un palo, poi però comunque nel complesso ha giocato una discreta partita, si mette a disposizione per i propri compagni di squadra, ha fatto qualche discreta sponda, insigne 6,5, 6,5 bene nel primo tempo, l'ho visto una buona intesa con Spinazzola e nel secondo tempo fornisce l'assist per il gol di Locatelli. Subentrati 6 a Di Lorenzo, 7 a Locatelli che ha chiuso la partita con un bel colpo da biliardo sul secondo palo, Bernardeschi 6, Immobile 6, Pessina senza voto, allenatore Mancini 6, il suo voto diciamo un po' che è il voto che do alla prestazione di ieri dell'Italia ed ha un po' come si sta comportando l'Italia in queste partite. Bene per i risultati sì, per il gioco insomma è atteso a test più provanti, vedi Svizzera nella prossima volta che giocheranno le nazionali. Va bene ragazzi, questo è stato un po' un riassunto della partita Bulgaria-Italia 0-2, fatemi sapere cosa ne pensate, io come al solito mi invito a iscrivervi al canale YouTube, a seguirmi su Facebook, a seguirmi su Instagram, lasciare un commento, lasciare un mi piace, a spammare questo video in ogni singolo punto del planisfero. Detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!